L'altro giorno abbiamo fatto un sopralluogo sul posto per verificare un po' la situazione in quelle scuole dove sostanzialmente è stata fatta la denuncia dal presiedi di fatta per una condizione dell'edilizia abbastanza grave. Effettivamente era così, abbiamo subito convocato questo vertice in provincia che è andato molto bene, nel senso che sono stati stabiliti tempi di intervento e modalità che ci consentiranno di portare tutto alla normalità in poche settimane, per cui staremo attenti e siamo fiduciosi che tutto vada bene. I tempi sono di qualche settimana sia per le questioni che riguardano le aule che per la messa in sicurezza dell'istituto. Naturalmente poi l'idea più ambiziosa è di far partecipare questa scuola ai bandi su edizia scolastica per realizzare un istituto moderno e all'altezza. L'incontro è stato molto positivo perché avevamo già focalizzato come amministrazione le problematiche, le abbiamo messe sul tavolo insieme al sottosegretario, abbiamo trovato delle vie di uscita per i primi interventi che permettano di far fronte alle manutenzioni più urgenti per l'istituto scolastico Dallino Dolci. Penso che entro il mese di novembre daremo inizio a questi lavori. Bisogna ricordare che a seguito dell'approvazione e finanziamento di una perizia che sta arrivando sui miei tavoli, poi dovremo spredare le procedure di appalto per l'individuazione delle giudicatari. Grazie a tutti.